Anche l'Holly Day Inn apre le porte agli sfollati vittime del terremoto. Sono 24 le persone che tuttora ricevono ospitalità dall'hotel. Da iniziativa di Filippo Donati, titolare dell'hotel Diana, altre realtà si sono mosse per dare sostegno alle vittime, tra cui appunto l'Holly Day Inn, con un servizio totalmente gratuito. L'Holly Day Inn ha deciso di dare la disponibilità ad ospitare i terremotanti. Perché questa scelta? Diciamo che l'idea l'ha avuta Filippo Donati, ho visto su Facebook la sua disponibilità. Mi è parso una buona idea, un modo per dare un sostegno concreto senza fare atti molto eroici. E' una cosa alla fine molto semplice mettere a disposizione qualche camera per queste persone. L'ho quindi contattato tramite Facebook dicendogli che anche noi eravamo disponibili. Dopo che lui ha finito di riempire l'hotel Diana, ha iniziato lui stesso a girarci le richieste che continuavano a pervenire per avere ospitalità. E così sono arrivate le prime famiglie, ieri l'altro. Ieri ne è arrivato un altro gruppo e oggi forse arriveranno altre tre persone che al momento sembrano essere le ultime. Sono tutte famiglie di finale Emilia, quasi tutte con bambini piccoli. Adesso quanti sono le persone che ospitate? Attualmente sono 24, di cui 9 bambini ed eventualmente le 3 che potrebbero arrivare oggi. Quante sono le camere tuttora occupate? Attualmente sono 9 e 10 e la nostra disponibilità iniziale è stata di 15 camere. Le persone che adesso ospitate, quante sono? Le persone che ora ospitiamo sono 24, più le 3 che potrebbero arrivare in giornata. Avete previsto magari altri arrivi? Sapete qualcosa? Attualmente no, qualora però si manifestasse la possibilità noi siamo disponibili ad accoglierne ancora. E avete un'idea o comunque quanto ospiterete queste persone? All'inizio si era parlato fino a fine mese. Attualmente loro stessi non sanno quale sarà la loro necessità perché non sanno ancora quando potranno rientrare nelle loro case che ovviamente rimane l'obiettivo. Sicuramente fino a fine mese abbiamo disponibilità, ce l'abbiamo anche oltre per cui vedremo anche a seconda di quelle che saranno le loro esigenze. Quali sono i servizi che mette a disposizione l'albergo? Dunque, noi gli offriamo la camera con tutto quello che c'è dentro quindi frigo bar, snack e quant'altro. Gli offriamo il servizio di bar e gli abbiamo riservato uno sconto molto grande qualora decidessero di pranzare o cenare nel nostro ristorante. Anche se finora non ce n'è mai stato bisogno per fortuna perché ieri sera c'è stata una cena offerta a Punta Marina e ieri a pranzo so che ce n'era stata un'altra in un ristorante del centro. Le iniziative continuano quindi penso che finora non ce n'è stato bisogno e magari non ce ne sarà nemmeno in futuro. La città che si muove ha sostegno di queste persone? Quanto è importante? Non lo so, penso che sia importante. Devo dire che per noi il sacrificio è modesto non è per niente un atto eroico o clamoroso si tratta di mettere delle camere disponibili. Ora c'era un collo di bottiglia il 26 perché c'era manifestazione dei Fanti che ha generato molta domanda alberghiera. Per il resto si tratta di mettere a disposizione delle camere che più delle volte magari comunque non avresti venduto visto il numero limitato e insomma non è certamente un grande costo. Gli ospiti, i terremontati, come hanno reagito alla notizia di questa vostra offerta? Devo dire che con loro ho avuto un approccio lento perché essendo io timido e loro intimiditi dalla situazione ci è voluto un po' di tempo prima di riuscire a parlarsi apertamente. Sono molto grati e soprattutto si sono sentiti accolti diciamo da una comunità più che il fatto di dormire in una camera d'albergo anziché in macchina è stato credo il fenomeno il sentimento che hanno trovato di accoglienza che gli ha dato un ristoro psicologico dopo la grave situazione in cui si sono venuti a trovare. Andrea e Ianni per Avena Web TV